In questa nuova fase di convivenza con il coronavirus evitiamo comportamenti scorretti. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo nase e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igeniziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it